Ciao, sono Ludovica Carla Ferrari, assessora del Comune di Modena a innovazione, turismo, attività produttive. Il Festival Smart è giunto quest'anno all'ottava edizione e già ci fa sperare per una nona edizione altrettanto bella e partecipata. La prossima edizione avrà come tema dell'anno una affermazione di verità o meno. Vero falso X è il tema attorno al quale ragioneremo. L'intelligenza artificiale ci sfida, anni fa ce ne siamo già occupati, ma adesso stiamo cominciando a vedere come entra nelle nostre vite prepotentemente. Tante opportunità ma anche tanti rischi attorno a questa dualità vogliamo ragionare come abituato a fare il Festival in modo generalista con tutte le varie ambiti che si muovono attorno alla vita di tutti noi, dal lavoro allo studio, alla ricerca, ai diritti, all'intrattenimento, al nostro modo di formarci e di informarci, dai piccini ai più grandi, qualsiasi sia il grado di alfabetizzazione non ci interessa. Il Festival Smart Life nasce proprio per questo, per aprire una piazza sia fisica che virtuale nella quale confrontarsi sulle attività dell'anno legate al mondo dell'innovazione, al mondo della Smart City e poi ripartire con nuovi contenuti, con nuove progettualità che ci accompagnino per il resto dell'anno. Vero Falso X ci porterà a parlare di verità, di mistificazione, di utenti del web che diventano creduloni oppure che attraverso la cultura digitale e la formazione stanno a districarsi appunto fra ciò che è vero e ciò che è invece finto, ciò che è costituito per essere manipolatorio. Quest'anno l'edizione è andata molto bene, abbiamo cominciato con un bellissimo spettacolo di Alva Noto, un producer di musica elettronica famoso perché è stato coproduttore ad esempio insieme a Sakamoto delle colonne sonore del film The Revenant con Leonardo Di Caprio e con molto altro ed è venuto a Teatro Storkin, una cornice straordinaria, tradizionale, storica a portare la musica elettronica e questo grande contrasto ha sorpreso tutti, è stato veramente bello e entusiasmante e ci ha fatto incontrare una forma performativa legata appunto alla musica ma anche all'arte visuale generata anche attraverso la matematica, le scienze dure, generata attraverso la fisica, generata attraverso la biologia perché tutti siamo stati letteralmente coinvolti e trasportati dalle note e dai battiti di questo straordinario spettacolo. Poi ci sono stati convegni, talk, incontri veramente a 360 gradi dalla geopolitica legata alle materie rare per il mondo della tecnologia, al garante privacy che ci ha spiegato quali siano i punti di maggiore attenzione per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale proprio per gli aspetti di protezione dei dati personali, il mondo delle imprese, il mondo della formazione con tanti bellissimi laboratori per i più giovani naturalmente e abbiamo parlato di uso del cellulare da parte dei bambini, quando, dove, come, a che età e cosa fare se ci rendiamo conto che c'è un abuso. Abbiamo parlato a 360 gradi di bellezza, di potenzialità, anche dell'intelligenza artificiale che applicata al mondo della sanità salva le vite e sempre con questo tono di chiaro scuro, i due risvolti della medaglia, siamo andati verso la conclusione con un bellissimo spettacolo di ballo e di musica e di arte. Le ragazze e ragazzi di scuole del nostro territorio, il Cataneo dell'Edda e l'Istituto Corni, hanno lavorato con abiti meravigliosi insieme ad una scuola di danza che ha danzato con queste creazioni che sono state amplificate dall'utilizzo di microcontroller, robotica e altri inserimenti tecnologici che hanno reso gli abiti capaci di rispondere all'ambiente che li circondava e con chi li indossava e quindi è una bellissima sfilata fra arte, ballo e musica in Piazza Roma che ha entusiasmato tutti, pronti per la prossima edizione La Nona nel 2024.